Un premio come questo, un concorso che stimola l'uscita delle emozioni che ci sono dietro una malattia come questa, può sicuramente aiutare. Soprattutto può portare a esternare delle sensazioni, delle emozioni che spesso le persone si tengono dentro di sé, che non hanno magari sempre voglia o coraggio di esporre pubblicamente. Quindi diciamo che questa è una buona opportunità per far conoscere anche all'esterno le problematiche che si vivono all'interno di un nucleo familiare rispetto a questa patologia e quindi in questo senso sicuramente è un contributo importante. Le difficoltà che ci sono all'interno di un nucleo familiare quando arriva ospite inaspettato all'emofilia sono considerevoli. È una malattia che almeno inizialmente richiede molta cura, molta attenzione, che quindi coinvolge tutti i componenti della famiglia che devono necessariamente trasformarsi in caregiver della persona che ha la patologia.